I cavalli sono sul finile della curva di destra e si lanceranno sulla dirittura di là, mancano circa 150 metri. Al centro dello schieramento Palisander e Mai Genginap, con Palisander e Ciro Ciccarelli, che come l'ultima volta corrono da dietro. Lancio di Mai Genginap in 14,7 e si delineano così le posizioni, Mai Genginap, Palisander, Occhio Baldo J.A., Oculista Stift, gradatamente il numero 5 di Oneida B. 29,9 i 400 con Giuseppe Gentile che ora cerca di portare un po' in mano il suo Mai Genginap. Si trascina sempre in schiena a Palisander, in terza posizione c'è il numero 2 di Occhio Baldo J.A., viene via il numero 1 di Oculista e prende la sua schiena, il numero 9 di Porto Stogli. 45 e qualcosina per i 600 metri e si giunge al paletto degli 800 in 1,1. E quindi Mai Genginap sempre lì a dettare andatura. Gradatamente il numero 1 di Oculista Stift raggiunge il Salchi di Palisander e in Pariglie troviamo il numero 9 di Porto Stogli. 15,8 il chilometro con una frazione in 14,8. Qualche problemino per Oculista che si rimette al volo e va ad aggredire Mai Genginap che sembra avere per il momento pochi argomenti. E si giunge così sull'ultima curva con Oculista che sta sottomettendo uno stanco Mai Genginap cerca di liberarsi dalla corda Palisander.